Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati in un nuovo, un nuovissimo video qui sul mio canale ASMR Sara Allora intanto come state? Io spero tutto 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 molto 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 bene Io sto abbastanza bene Allora ragazzi e ragazze, intanto volevo dirvi una piccola cosa che ho attivato gli abbonamenti al canale e vi lascio qui sotto, vi lascio il link insomma qui sotto nell'info box e io assolutamente non obbligo nessuno ad abbonarsi al canale pertanto io continuerò a fare video, solamente che gli abbonati al canale avranno molti più contenuti, anticipazioni pensavo fosse una cosa carina, 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 carina però bando alle chance iniziamo subito il video Allora questo è il video What's on my iPhone, cosa c'è? Il mio iPhone Allora io ho un, sposto un po' la candela, ok? Ho un iPhone 11 è normale, è colore della litta, della litta, della litta e te lo faccio anche vedere Allora, qui ho messo una cover che ho comprato su Shein con l'aereo e un punto, punto vabbè, praticamente sarebbe una tappa di viaggio con un cuore e a me piace molto, molto, molto perché mi andava a coprire tutto il telefono però comunque al telefono mi piace molto e anche il colore lilla del telefono è uno dei miei colori preferiti anche se, anche se il rosa, rosa, rosa dell'iPhone 117 che avevo due anni fa era bellissimo quello proprio, mamma mia era l'iPhone già, l'iPhone più belli secondo me mai creati per la colorazione però anche questo lilla non c'è male allora vabbè, andiamola a sbloccare qui c'è, diciamo, una schermata la schermata principale con lo spunto qua c'è la modalità aereo che ce l'ho da ieri sera non l'ho ancora arrivata il Wi-Fi, la batteria allora e la data di oggi martedì 10 novembre qui ho scelto uno sfondo che mi rappresenta moltissimo ossia uno sfondo bianco che poco indica la purezza secondo me proprio il bianco con il tuo scritto amor, fatti amor, fatti amor, fatti io credo molto nel destino e tutto ciò che viviamo non siano solamente coincidenze ecco io ci credo molto a questa teoria poi ne parleremo anche in un prossimo video se vi va allora lo vado a sbloccare ok ho modificato un pochettino l'inquadratura per vedere meglio allora 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 sblocco il telefono e qui vediamo lo sfondo allora qui ci sono io al lago di Misurilla è una vacanza che ho fatto quest'estate una vacanza bellissima che non mi dimenticherò mai davvero sono stata molto 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 formulata che cosa dico formulata e questa foto mi piace particolarmente davvero e quindi l'ho messa appunto come sfondo poi a me l'azzurro mi piace molto il verde vabbè non è uno dei miei colori preferiti però comunque ci sta solamente forse sta un pochettino con lo sfondo del telefono il zoom dietro vabbè allora intanto ti faccio vedere qui ho il telefono safari fotocamera e whatsapp sono le cose che utilizzo di più poi qui abbiamo mappe 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 e questo devo dire è molto 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 importante mi ha salvato la vita tantissime volte soprattutto all'estero perché vabbè sapete tutti come funziona praticamente metti una meta e lui dice come arrivarci in pullman in treno quindi a me mi ha salvato da tre per tanto tantissimo la vita all'estero e anche qui in italia ovviamente poi messaggi che come vedete non do molta importanza ai messaggi poi medio vabbè ora non lo apro perché c'è il medio della mia città città e non mi va insomma vorrei mantenere un po' di privacy però mi piace tantissimo vedere il medio della mia città il medio di Roma il medio che ne so di Londra di New York infatti tutte queste città nel medio già registrate perché io sono molto molto curiosa sul medio degli altri paesi poi ho l'app adesso riesco a parlare all'app store app store app store app store app store app store app store dove scarico le applicazioni orologio allora qui vabbè allora questo è il cronometro dove principalmente qui vado a segnare i miei allenamenti cioè abbio il cronometro così vedo quanto mi sono allenata durante il giorno non mi alleno tutti i giorni però qua il timer e qua le sveglie ne ho tantissime partono dalle tre con quarto ossia dall'anno scorso che mi svegliavo presto per viaggiare e le tengo ancora perché sono ricordi sono ricordi anche queste sveglie insomma poi è la calcolatrice qua non mi ricordo che calcolo stavo facendo i memo vocali ne ho tanti 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 alcuni non mi ricordo nemmeno cosa solo poi impostazioni del telefono volta poi arriviamo alla seconda 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 schermata allora ho youtube youtube studio calendario e note allora youtube vedo anche io video e santo musica poi youtube studio è dove vedo un pochettino le analytics del mio canale comunque io non ho problemi a svelarvi tra virgolette le mie analytics se siete curiosi di fare un salto in questa applicazione con me ditemelo che secondo me c'è troppo mistero su questa cosa cioè è come se fosse un tabù il guadagno su youtube ma secondo me non c'è proprio niente di male quindi se volete io posso svelarvi queste cose insomma cioè perché secondo me non c'è niente di male ecco poi calendario che in realtà non utilizzo più di tanto perché ormai ho un'agenda bellissima della modi skin di Alice nel paese delle meraviglie che è con cui tengo anche il conto dei giorni mamma mia bellissima poi a note qui scrivo di tutto ragazzi di tutto di tutto di tutto di tutto comunque sentite motorini assurdi proprio cioè tutti ora stanno passando poi poi ho l'applicazione del roadhouse e ho 5 euro di sconto è la prossima volta che ci vado e vabbè io qui ci vivo e mamma mia c'è un valore qua una cosa favolosa mamma mia poi ho telegram che non lo apro da un bel pa spotify allora io su spotify non ascolto la musica ma i podcast delle ragazze che più mi piacciono le proseguo oppure anche podcast tipo secondario mi pare la zanzara cose del genere certe volte le ascolto poi ho gmail che non apro da un po' come potete notare ho l'app di paypal e ragazzi davvero io sto ricevendo tantissime donazioni io vi ringrazio moltissimo vi ringrazio moltissimo ma proprio tanto 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 e grazie alle vostre donazioni io per natale forse riesco a comprare una cosa bellissima perché canale e non vi spoilerò cosa voglio crom voglio crom e vabbè sapete tutti che cosa ranchi per mi serve per andare a correre sky scanner che purtroppo ora non serve niente però io vengo lo stesso e quando la vedo bianco on netflix e vi faccio vedere cosa sto vedendo ultimamente allora voglio iniziare The Witcher e sto vedendo Illimor Girls però ho visto anche la regina degli scacchi questa qua e poi vabbè buh ora sto vedendo queste per ora poi l'applicazione di Trenitalia che anche ora non serve a niente Imovit vi edito Teams dove faccio lezioni e più che altro vabbè faccio lezioni sul computer però qui qui mi tengo giornata sulle notifiche se i professori ricaricano qualcosa i messaggi eccetera BeFocused oggi l'ho utilizzato parecchio ho fatto 5 tasks poi salute oggi ho fatto pochissimi passi poi terza schermata e ultima a RME Finks dove ha detto le foto Pinterest dove prendo ispirazioni foto le mie foto Shane che vabbè ormai compro tutto lì Amazon ormai compro tutto lì poi inutili e qui ho Instagram e ho messo anche il timer per limitarmi un'ora al giorno per il video e qui sto vedendo Shameless e file e qui vabbè metto questo mi serve molto perché qui ci sono tutti gli audio dal Toscano che poi metto sul telefono oppure i miei progetti di illustrazione eccetera quindi le mie pagine erano queste ragazzi ragazzi io spero molto che il video vi è piaciuto fatemelo sapere sempre con un commentino con un mi piace e se non sei ancora iscriviti al mio canale iscriviti 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 al mio canale io spero che questo video ti sia piaciuto è stato un po' scomodo per me perché vale la forna a sinistra e la fotocamera a destra in più le macchine che non mi aiutano spero vi piaccia fatemi sapere se ci sono delle applicazioni utili che dovrei conoscere ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi 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 buon'lotte 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 buon'lotte